Brutta avventura per Mauro Marin, vincitore del Grande Fratello 10. Ha pubblicato infatti sul suo profilo Facebook una foto del suo volto, gonfio e deformato da un pugno ricevuto, stando alle sue dichiarazioni da un uomo straniero. L'aggressione sarebbe avvenuta a Castelfranco, Veneto, in provincia di Treviso, subito fuori casa di un'amica, che l'ex Geppino era andato a trovare. Secondo alcune versioni la ragazza sarebbe romena, tra i due ci sarebbe stato un litigio e infine Mauro se ne sarebbe andato. Mentre andava via l'ex Geppino avrebbe incontrato quest'uomo, rumeno, che lo avrebbe colpito al volto riducendolo come si mostra nella foto sui social. Aggredito da uno straniero, scrive Mauro. Stavolta l'ho vista brutta, spero che i carabinieri riescano a scovarlo. Qualche minuto dopo una nuova foto, bistecca crude e via, dice Mauro, mostrando una nuova angolazione del suo infortunio. Su Facebook, dove la pagina di Marin è seguita da 318.000 fan, la solidarietà all'ex Geppino è stata compatta e unanime.